ciao a tutti e bentornati in un nuovo video della serie su fifa 17 primo video del 2017 dai dai ce l'ho fatta a fare un video eh ce l'ho fatta anche a caricarne un altro insomma dai dai rieccomi allora vabbè 2017 chiaramente nella realtà nel gioco in realtà dobbiamo iniziare febbraio 2018 allora la situazione è questa dato che è passato un po' di tempo è meglio un po' diciamo rinfrescarci non dico le idee però per quanto riguarda l'andamento per come siamo messi adesso allora per quanto riguarda la classifica come vedete siamo quarti a 4 punti dalla prima e se vogliamo vedere seconda e terza ha solamente 3 punti però bisogna stare attenti anche dietro perché anche dietro sono vicino a noi però per essere il primo anno no? che siamo tornati in Premier League direi che la situazione diciamo è di che è buona è di poco quindi per quanto riguarda la classifica stiamo procedendo in maniera eccezionale per il mio per quanto riguarda la rosa se non vi ricordate il carciomercato l'ultimo non è stato questo appunto grandissimo no? evento chiamalo così perché comunque se non sbaglio perché sinceramente ragazzi passiamo un po' di tempo e le osse me le ricordo anche io a Sperazzi scusate ma voglio essere onesto se non sbaglio abbiamo solamente preso giocatori a parametro 0 che arrivano al prossimo anno fra i quali Eriksen mi pare comunque per quanto riguarda questo carciomercato non è successo niente per quanto riguarda soprattutto la rosa ai titolari e niente e come vi ho detto adesso dobbiamo iniziare il febbraio e iniziamo subito giocando fuori casa in trasferta contro lo Stoke vediamo un po' allora per quanto riguarda le maglie io direi che me le metti questa qua a noi poi c'è Tileman si è infortunato e ci va a regola va bene Odegaard si ok e niente la forma bene o male è decisamente buona a parte fra l'altro Odegaard che manca un pezzettino detto questo niente iniziamo battiamo il carcio di inizio noi ragazzi è la prima volta che vedo davvero un campo così fatto così a rombi niente piove e la partita inizia speriamo bene ah cerchiamo di iniziare questo video e diciamo questo tra virgolette 2017 nel migliore dei modi ed è buona che lezione vai con l'iscio no dai via 1 a 0 Stoke hanno fatto un discreto gol perché comunque diciamo a livello tecnico secondo me no sa bellina da vedere cioè il volo sia a giro ed esterno però ce l'ho avuto anche tanto culo porca miseria vabbè 1 a 0 eh non dimordiamo attenzione bravo Cicio vabbè bravo poteva far meglio però l'importante è non aver preso gol il secondo finisce così il primo tempo 1 a 0 Stoke porca miseria non abbiamo neanche fatto un tiro in porta se non sbaglio e direi che dobbiamo svegliarci perché se no è veramente un problema dai bimbi cambio sperando che la palla esca il prima possibile perché se no il cambio non si può fare allora levo Odegaard per mettere Cerny anche se non è il suo ruolo più ideale quello del 3 quarti non ci metto perché Odegaard è stanco e levo Vizio e lo metto a Marte ok vediamo un po' va Marte Dio buono Cerny si sa che ho infuso il nome va Cerny volevo dire scusate vabbè fuori di poco però si presenta così in campo non male Ramele si faceva gol però non male attenzione eh 2 a 0 2 a 0 partita di Reide chiusa perché non è che arriva a porta figuriamoci se riesco a fare due gol addirittura per equilibrarla qualche lescione nemmeno così tanto più magari fare un gol della bandiera tipo finisce così la partita un 2 a 0 giusto per lo stock eh fatemi vedere le statistiche se non sbaglio i tiri in porte effettivi mi hanno fatti la bellezza di 0 loro le 3 5 più tiri no no è giusto aver perso e diciamo che in questi giorni in cui non ho toccato la playstation per lo meno non ho toccato fifa diciamo che mi sono un po' ammollito quindi devo un po' rifarci la mano perché sennò diventa un problema per nostra fortuna però stando a quanto vedo la classifica siamo sempre quarti con addirittura una partita in meno rispetto a quella sopra noi che è la terza veramente che è l'Ars va bene procediamo alla prossima partita seconda partita porca miseria diciamo è una bella partita ma per quanto mi riguarda non ci voleva perché se davvero prima non è stato un caso ma il fatto di aver perso è stato cioè è stato dovuto da il fatto che io devo un po' rifarci la mano è un bel problema perché questo è un altro cioè è un super big match via tanto per capirci ma stiamo bene vai scendiamo così in campo scusate mi ero un attimino distratto comunque la partita è iniziata abbiamo battuto il calcio di inizio noi e niente speriamo bene giochiamo anche in casa guardiamo se magari questa questa cosa può diventare non so nemmeno come mai però è un fattore importante per quanto riguarda il risultato finale della partita attenzione 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 niente chiaramente chiaramente non succede niente nooo boh ero già pronte sul tad peccato zoom di testa guardiamo adesso nulla niente attenzione mamma mia fuori meno male finisce così il primo tempo 0 a 0 obiettivamente un primo tempo noioso però a differenza di prima almeno stavolta non perdiamo il che comunque è già un percosina di buono no scherzo vabbè non perdiamo quindi la partita diciamo che è sicuramente più aperta rispetto al primo tempo della precedente partita ecco per quanto ci riguarda chiaramente via iniziamo il secondo tempo e speriamo bene attenzione va bene era un tiro semplice abbastanza prendibile a me della ruma comunque non l'ho affatto entrare in porta meno male meno stavolta attenzione vai gabriel buono buona cosa lo farò non ci credo una volta che si era tirato cambio il solito cambio di primo ovvero esce odegaard entra cerni esce witzel entra amartei e poi tanto per far giocare anche bombamba levo ta e metto lui dai 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 no no vai Dembélé invece si tira Dembélé no avevo detto no no perché pensavo che la scivolata difensore avesse levato parla a cerni prima di di no 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 lo dico per precisione comunque porca miseria potevamo fare gol ecco era goberato col subito la classica legge di merda finisce così questa partita 0 a 0 tutto sommato potrebbe essere anche un punticino un buon punticino mi spiace solamente che almeno per quanto riguarda sul finale potevamo forse addirittura portarci in vantaggio e prendere 3 punti anziché appunto 1 vabbè andato così la cosa buona è che almeno non si è perso e come ho detto già a fine primo tempo è già qualcosa la terza partita del mese è questa qua quella di coppa ma come sapete non è in realtà la nostra terza partita perché la simulo a regolo dovrebbe essere fattibile almeno sull'arta guardiamo un po' non va a finire 2 a 0 buono si procede senza giocare si va sempre più avanti bene mi fa piacere eccola qua la nostra vera diciamo giocata terza partita porca miseria un altro big match cioè in realtà io mi caso quando ci sono le partitone anche se sono giochi però ora no perché ci devo rifare la mano almeno non mi sento come magari sono stato a volte nei precedenti video mi rendo punto che non mi riesce bene arrivare in porta a volte sbaglio cose che prima non sbagliavo comunque vabbè si gioca contro il Tottenham fuori casa quindi siamo in trasferta però voglio fare una cosina ci ho pensato quindi se è una cazzata è una cazzata pensata allora se la maglia ci dovrebbe vedere anche se quanto aroncino e calzettone sono uguali sono una maglia allora vabbè no qui telemanze no voglio provare a far questo mette Cerny e Amartey subito e poi togliere Zuma e mette Mamba gioco sì perché sinceramente ora per quanto riguarda l'odeguide Cerny tanto tanto per quanto riguarda invece Witzel e Amartey sembra una cavolata però da quando l'ho comprata ad ora quindi di Anosa pensata e ripensata mi trovo meglio con Amartey anche se qualitativamente è più scarso rispetto a Witzel in alcune cose chiaramente eh battono il calcio d'inizio l'avversario e la partita inizia dai bimbi guardiamo di cambiare completamente il risultato finale attenzione che le Sione che le Sione carica il destro e il solito tiro merdoso no poveraggio stavolta ha preso il palo quindi ha fatto già qualcosa di meglio rispetto alle altre volte comunque chiaramente la palo non è entrata forse ce la faremo a fango in questo video forse forse vai che le Sione bella roba a centro ti piazzala eccola lì che legia nascio finalmente riusciamo a fare un cazzo di gol ma soprattutto ci portiamo in vantaggio sbloccando questa partita a led ma sono contento perché Caracione in questi ultimi mesi di gioco non è che abbia fatto questi grandissimi questi tanti gol ecco quindi bene speriamo si possa essere sbloccato anche se la vedo bici alla ossa vabbè speriamo finisce così il primo tempo se Dio vuole dopo essere stati diciamo sotto il svantaggio dopo essere a pari punti diciamo così a pari gol ovvero col pareggio dai dai finalmente chiudiamo il primo tempo in vantaggio noi si ho detto tante azzate per arrivare a dire che sto sapendo comunque scusate quindi niente bene così cerchiamo di tenere diciamo almeno il risultato così se proprio dobbiamo cambiarlo magari cambiamolo facendo un altro gol insomma bene bimbi andiamo avanti mamma mia meno male mamma mia meno male a parte che per un momento non ci ho capito più nulla solamente visto che Donnaroo ha evitato il gol meno male cambio stavolta si fa invece l'opposto di quello che si fa sempre ovvero facciamo così arriviamo a mettere uno zoom vabbè che più carico no ma io meno male c'era lui davanti sono pallonato sarei nervoso nervoso non si sa si è rifatto che meno male non è arrivato in forte per il tiro chissà come potremmo andare a finire e andiamo finalmente siamo tornati alla vittoria in un big match il Tottenham non lo sapete non ho guardato la classifica non mi ricordo a memoria dove si trova ma vedrai è fra le prime tre ma vedrai forse era la prima addirittura la sionda guardiamo se non è se è fatto proprio un'impresona via infatti ma vedrai il Tottenham non me lo ricordo scusatemi non so se è la prima sionda Arsenal è la terza quindi vabbè indipendentemente era affatto dove era si è battuta una squadra che era sopra di noi bene bene così grandi bimbi adesso avviamoci a quella che dovrebbe essere poi sbagliavo il febbraio arriva fino a 28 poi inizia l'uno quindi inizia marzo avviamoci ora all'ultima partita di questo video di questo mese come probabilmente avevato visto prima giochiamo contro i Norwich fuori casa un'altra volta fra l'altro giochiamo fuori casa perché anche prima contro i Tottenham abbiamo giocato fuori boh vabbè non importa allora tanti giatori sono stanchi alla T-Lamance è sempre cerotto quindi non me la sento di rischiarlo poi Bailey è quello che è più stanco fra i due esterni ovvero fra lui e Dembélé quindi metto Cernio al suo posto e niente per ora iniziamo così probabilmente poi avremo anche il cambio perché vedo che giustamente come anzi capibilmente se esiste il termine perché non lo so eventualmente passata abbiamo giocato due giorni fa nei giovi quindi è giusto che tanti giatori siano stanchi abbiamo battuto il calcio inizio noi ragazzi scusate ma un'altra volta me lo son dimentiato anzi per un'altra volta me lo son dimentiato c'avevamo palla noi ma l'abbiamo persa quindi Red Norwich farà il gol detto questo niente e la partita inizia così no meno male si abbiamo preso abbiamo preso palla attenzione Witzel vabbè l'hai provato così ma niente di che mamma mia bravo Gigio ancora finita infatti si prende gol Paolo mamma mia fuori gioco ho finito l'azione se de vuole comunque come spesso ci capita abbiamo rischiato di prendere gol ale vai Dembele vabbè almeno stavolta ha preso la porta però non è bastato 0-0 finisce così il primo tempo la partita sinceramente con poche occasioni non è molto movimentata però vi posso garantire che ecco la bomba che se continuiamo a giocare così forse almeno un gol lo facciamo poi ne prendiamo 47 però forse un gol riusciamo a farlo vedremo tanto inizia il secondo tempo vai vai Gabigol che anche te dà tanto che non fai gol e tira niente cambio andiamo un po' boia oh da guardi vi invia lì lì per lasciarci vabbè dai mettiamo Tileman anche se sarebbe meglio non metterlo e ma mettiamo a Martel possiede in bene a destra anche se non è il suo ruolo si scarseggia un po' onestamente parlando si e poi boh che c'è da poter mettere a me hobby ma non mi garba vabbè mettiamo a me hobby al posto di cerni vai attenzione che ne scone tira no 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 attenzione a me hobby a me hobby no ma dai finisce così 0-0 porca miseria di maledetta me che sono un cane non mi riesce un troll a modina ai giocatori sono mangiato due god sul finale anzi soprattutto la penultima azione con Tileman roba dell'altro mondo mamma nata o sì però avete visto anche le statistiche mi auguro dopo vince io chiaramente sono arrivato sino al prossimo match ovvero quello del 4 marzo contro lo Swansea che è comunque un'artista importante anche se magari stando alla realtà può non sembrare perché lo Swansea di pezze non è quella squadra che sta nelle zone alte al contrario di quello che invece fa nel Joe e niente quindi devo arrivare alle conclusioni cosa dire di questo video facendo un risonto generale c'è da dire che di per sé è stato veramente un video inguardabile soprattutto se vogliamo veramente qualificarci per qualche competizione europea importante perché in 4 partite abbiamo fatto solamente 5 punti ovvero 2 pareggi una sconfitta 2 pareggi è una vittoria soltanto anche se l'ultimo che l'ultimo pareggio ovvero quello conquistato contro il Norwich mi è rimasto sinceramente un po' strozzato in gola via diciamo così quindi per sé non è stato un grandissimo video per quanto riguarda i risultati finali ottenuti però per nostra fortuna siamo sempre qui ora c'è più distacco rispetto a prima per quanto riguarda le posizioni davanti a noi ovvero terza seconda e prima però alla fine siamo sempre qui non è cambiata così tanto la nostra situazione quindi bene così nonostante tutto detto questo niente e arrivo come sempre anche se di per te sono già conclusioni ma per cambiare dico vere e proprie conclusioni quindi in primis vi ringrazio come sempre per la visualizzazione e poi vi ricordo di rimettere barra a fare se volete queste tre cose ovvero mettete un bel mi piace al video condividetelo ma soprattutto iscrivetevi al canale così potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò non solo di questa serie qua insomma e basta non c'ho da dire altro fatemi vedere solamente contro chi giocheremo poi le squadre che capiteranno nel prossimo video ok vabbè a parte questa di coppa vabbè squadre comunque carine soprattutto questa vabbè dai iniziamo subito comunque con un match non è un big match ma sicuramente un match importante via rito questo vi aspetto ciao 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 Grazie a tutti.